Bella a tutti ragazzi, vi parla Foxound e bentornati nel canale The Walking Dead News, spoiler e altro Sono tornato ragazzi con un nuovo video, in questo nuovo video andremo a vedere quelli che sono due minuti dell'episodio 7x16 Non so effettivamente se si trattano dei primi due minuti o semplicemente di due minuti e mezzo Ma comunque è uscito un nuovo sneak peek di questo episodio che ci mostra veramente tante tante cose Oltre a questo ragazzi ovviamente in questo video andremo a rispondere ad alcune delle vostre domande che mi avete fatto nei precedenti video Quindi mi raccomando anche in questo video fate tantissime domande così posso rispondervi nei prossimi E ovviamente prima di iniziare come al solito vi ricordo di lasciare un mi piace se volete supportarmi E inoltre di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti di The Walking Dead Che dire, iniziamo subito con il video Ovviamente ragazzi questo video potrebbe contenere spoiler visto che comunque insomma non è che dice granché Diciamo questo sneak peek Però ovviamente ho messo spoiler nel titolo perché chiunque non vuole praticamente rovinarsi assolutamente nulla dell'episodio Consiglio ovviamente magari di chiudere questo video se è arrivato a questo punto Anche perché insomma potrebbe contenere spoiler O almeno saltarlo per arrivare poi alle domande del appunto che solitamente vi rispondo sempre dopo la parte iniziale del video In questo caso la parte iniziale è proprio questi due minuti dell'episodio 7x16 Comunque devo dire che promette molto bene questi episodi soprattutto da questo sneak peek che è appena uscito Mi pare che è uscito circa ieri quindi è veramente molto recente E lo sneak peek riguarda i personaggi di Sasha e di Negan In quanto praticamente nel primo frame che sicuramente adesso starete vedendo Sasha si sveglia all'interno della sua cella con Negan che gli dà il buongiorno E sicuramente ha qualche pietanza per lei Nel senso che sta venendo appunto con un contenitore che ovviamente all'interno contiene del cibo Per comprare tra virgolette Sasha oppure farla sentire a suo agio Infatti Negan dà il titolo all'episodio perché il titolo è The First Day of the Rest of Your Life Infatti dice buongiorno Sasha e benvenuta diciamo nel primo giorno del resto della tua vita Quindi comunque è come se gli dicesse questo è il primo giorno del resto della tua vita Cioè nel senso è il primo giorno che tu sei effettivamente uno di noi Cioè una di noi e che ovviamente servirai a qualcosa Infatti Negan si abbassa e parla con Sasha Dicendogli che lei dovrà essere la chiave per rimettere diciamo le cose in sesto Perché comunque Negan ricordate che ha scoperto da una talpa che non si sa ancora chi sia Che ovviamente Rick sta preparando l'esercito per poterlo contrastare Ovviamente Sasha in questo modo si sente veramente molto molto distrutta da questa cosa Perché sarà lei quella che dovrà risolvere la situazione E non si sa effettivamente come Negan voglia fare Infatti Negan gli dice che ovviamente sarà lei la chiave di questa cosa Perché comunque insomma stanno succedendo tante cose e tu non devi morire Nel senso Negan non vuole vedere Sasha morta In questo sneak peek si capisce Cioè nel senso lui dice io non voglio ucciderti e non voglio che tu muoia Ma devono morire altre persone Sostanzialmente dice questo Quindi potremo andare a pensare che sarà Sasha quella che potrebbe uccidere alcuni di quelli che sono il gruppo di Rick Nel senso che può tranquillamente fare una cosa del genere Negan a costringerla ad uccidere uno dei membri appunto del gruppo di Rick Stavo pensando così perché comunque lo sneak peek dice esattamente questo Quindi insomma vado a pensare questo ma potrebbe essere tranquillamente altre cose Ma sostanzialmente abbiamo la certezza che sia lei la chiave per questa guerra Nel senso Negan vorrebbe usarla come chiave per risolvere questa guerra Ovviamente insomma dovrà farlo con la violenza perché Negan ovviamente sappiamo i suoi metodi Quindi ovviamente Sasha dovrà fare qualcosa di molto molto orribile Infatti poi sostanzialmente gli fa vedere Apre questo diciamo questo contenitore E gli fa ovviamente vedere che si trova Ti sembra tipo una crostata oppure non so cosa Una frittella non so cosa bene sia Poi comunque sia le fragole Insomma un piatto veramente molto molto sostanzioso Nel senso un piatto veramente molto buono E quindi Sasha ovviamente sarà costretta Nel senso ovviamente la mangerà E la domanda spontanea che si può che Sasha pone a Negan È per cosa tu hai bisogno Cioè nel senso cosa io devo fare Perché hai bisogno di me e cosa devo fare Sostanzialmente questa è la domanda di Sasha Perché è preoccupata da poter diciamo far male ad altre persone Quindi ovviamente credo che la mia teoria del fatto che Sasha si suicidi In questo episodio sia molto molto alta Perché comunque Negan dovrà sfruttare lei Per quella che è la risoluzione di questa guerra E l'unico modo a mio parere è proprio questo qua Nel senso che Negan è in mente un piano E sarà lei quello che lo dovrà appunto attuare Quindi davvero una cosa molto figa Questo sneak peek ha detto veramente tante cose Infatti comunque lo trovate in descrizione Perché come sapete non posso caricarlo sul canale Per problemi di copyright Quindi ovviamente potete trovarlo in descrizione Così che lo guardate tranquillamente Nel senso devo dire che questo sneak peek Ha trasmesso veramente molto Sappiamo ovviamente che Negan in questo modo Vuole usare lei come diciamo risoluzione Diciamo del problema E dovrà fare qualcosa di molto 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 orribile Veramente uno sneak peek interessante Infatti sinceramente non vedo l'ora che arrivi quest'episodio Da una parte si e da una parte no Perché poi comunque ricordate che dopo quest'episodio Dovremmo aspettare a ottobre Quindi da una parte non vorrei che quest'episodio uscisse Però purtroppo ragazzi lunedì dovremmo vedere Questo che sarà l'ultimo episodio Che dovrebbe essere veramente molto bello Fatemi sapere comunque voi nei commenti cosa ne pensate Fatemi sapere con un commento appunto Cosa ne pensate di questo sneak peek Le vostre teorie che potrete appunto Che diciamo vi siete fatti In questi due minuti di questo episodio Così almeno appunto Mi fate sapere qui giù nei commenti Non ci dilunghiamo a altre chiacchiere Quella è la prima parte del video E in questa seconda parte andremo a rispondere Alle vostre domande come al solito Infatti la prima domanda ce la fa Manny434 Che ci chiede Question in answer Se Carl morirà secondo te Come morirà e chi lo ucciterà E se Nigga nel corso dell'ormai imminente guerra Trasformasse proprio Carl in zombie E non Sasha come pensi tu Questo per provare a far ricadere il Rick In quel momento In quel momento in vantaggio della guerra Nel vortice della paura della prima parte della settima stagione Renderlo di nuovo innocuo Credi che uno scenario del genere possa essere plausibile? Mmm Allora questa è una domanda interessante Nel senso Sul fatto di Rick Di farlo ricadere nel vortice della paura Io non credo Nel senso che comunque L'abbiamo già visto nella prima parte di stagione Non avrebbe molto senso Far ricadere Rick Nel vortice della paura Anche perché Se ci fosse una morte di Carl Credo che sia tutt'altro che paura Nel senso Una volta che Carl è morto Ovviamente Rick si trasformerebbe come una macchina da guerra Ancora più assassina Di quanto lo era E di quanto lo è Quindi Credo che Anzi Forse una morte del genere potrebbe riportarlo il Rick di sempre Nel senso che comunque il Rick che non ha paura di niente E sopravvive come ha fatto sempre Quindi secondo me insomma potrebbe essere una cosa del genere Che Carlo potrebbe tranquillamente morire Ma non credo in questa settima stagione Anche perché insomma sarebbe un colpo veramente molto grande Non credo muoia in questa stagione Ma comunque potrebbe Se fosse reale Non credo che diciamo Rivedremo un Rick alla prima parte della settima stagione Cioè nel senso Non vedremo il Rick della prima parte della settima stagione Anzi Lo rivedremo secondo me molto cambiato E ancora di più Deciso a combattere Proprio perché ovviamente Carl Cioè diciamo È il suo figlio Ed è l'unico motivo per cui lui ancora è rimasto in vita Come già appunto Aveva già detto Ed infatti vuole creare un futuro per quello che è Carl Per quello che è Judith E creare un futuro appunto per loro Senza essere schiavi dei salvatori Quindi sarebbe un duro colpo per Rick Secondo me non lo Non lo trasformerebbe diciamo come prima Ma anzi lo cambierebbe ancora di più E sarebbe ancora molto più spielato di quanto lo è già Comunque fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate Questa è una domanda veramente molto interessante Prossima domanda ce la fa Rocco Cris Che ci cade in question and answer Come fa D a essere la talpa se a fine episodi si trova con Rick E se fosse proprio D a ferire o catturare Negan Allora infatti credo che D non sia la talpa Anzi io credo nel video che ho detto che sia Cioè molto probabilmente è un traditore Nel senso che potrebbe tradire il gruppo di Rick Nel momento in cui appunto l'abbiamo visto nella promo con Negan Quindi nella promo che già vi ho portato l'analisi della promo La trovate nel canale Abbiamo visto dietro a Negan proprio Dwight Quindi la domanda è questa Nel senso se Dwight si è alleato a Rick Com'è possibile che adesso è con Negan Quindi insomma le opzioni già l'ho fatta nel video precedente Non mi ricordo se era il video precedente Vabbè insomma uno dei video E degli ultimi video che ho fatto E credo ovviamente che la più plausibile Sia il fatto che ci sia un doppio gioco Fra Rick e appunto Dwight Nel senso che gli ha detto Rick a Dwight Di allearsi con Negan Come se fosse nulla E poi utilizzarlo come mezzo Per iniziare la guerra Oppure sostanzialmente per uccidere Negan magari E comunque credo sia Cioè potrebbe essere addirittura D A catturare Negan oppure a ferirlo E io credo che ci siano cose del genere Nel senso che magari Dwight prova ad uccidere Negan Negan ferisce Dwight Oppure addirittura lo uccide e parte la guerra Potrebbe essere addirittura una cosa del genere Ma comunque Dwight Secondo me avrà un ruolo molto chiave All'interno di questo episodio Che potrebbe addirittura ferire o catturare Negan E' veramente molto plausibile come cosa Prossima domanda ce la fa Jarmstow Jarmstow che ci chiede Questo è un'ansio di Fox Secondo te ci potrebbe essere qualche stagione Tipo la 9 o qualsiasi Che potrebbero avere meno episodi Tipo 12 su 16 Allora questa cosa degli episodi E' imposta da MC Non lo decide Non lo decidono i produttori MC ha firmato un contratto Ovviamente con la serie Dove diceva effettivamente Che gli episodi devono essere 16 Quindi diciamo E' stata una cosa contrattuale Almeno da quello che so io Quindi ovviamente insomma Il fatto che sia da contratto Devono per forza rispettare Il numero di 16 episodi Poi se il contratto dovesse cambiare Potrebbe essere tranquillamente Che la 9 stagione Oppure altre stagioni Potrebbero avere 12 episodi Anche perché molti si sono lamentati Di questa cosa Nel senso che se ci fossero stati Meno episodi La stagione sarebbe stata Molto più veloce Però comunque credo Che questi 16 episodi Siano serviti anche Per analizzare meglio Le fazioni Nel senso distribuire meglio Il tutto E secondo me ci sta Nel senso Io l'ho vista una stagione Veramente molto figa Questa che è stata la settima Ovviamente non è stata Una delle mie preferite Però comunque l'ho vista Come una stagione Dove si è distaccata Dalle altre E ha preferito analizzare I personaggi Per poi praticamente Metterli nel campo di battaglia Contro Negan Nell'ottava Quindi secondo me Insomma tipo la nove O qualsiasi altra stagione Potrebbe avere tranquillamente Meno di 16 episodi Se appunto il contratto Dovesse cambiare Nel senso che sicuramente Sarà come dico io Una cosa da contratto E quindi nulla Insomma Io la vedo La vedo una cosa così Prossima domanda Ce la fa Gaia in prota Questo è un'anser A te Fox manca Lori A me si E se Lori fosse in vita Cosa farebbe Che ruolo avrebbe la sua morte Dimmi la sua parte In The Walking Dead Secondo te Allora Se in grado Continuo così Allora Grazie mille Gaia Allora ti dirò Non mi manca Lori Nel senso Questo lo escluderei Proprio tranquillamente E se fosse ancora in vita Diciamo che Non avrebbe Secondo me Un ruolo importante Perché comunque Lori è stata sempre Un personaggio Che ha contribuito Sì o no Al fatto Di stare nel gruppo Nel senso Che lei Non era Secondo me La persona perfetta Con cui stare con Rick Nel senso Sì ok Che Rick E Lori Erano sposati Eccetera eccetera Ma credo Che comunque Lori Non accettasse Il modo di fare di Rick E credo che Se ci fosse stata ancora Lori Secondo me Le decisioni Che ha preso Rick In queste stagioni Secondo me Sarebbero state modificate Da Lori Nel senso Che comunque Non avremmo avuto Rick che stiamo vedendo adesso Se ci fosse stata ancora Lori Perché Lori Gli ha detto sempre Di tenere il gruppo unito Ma senza Sporcarsi le mani Quindi senza farlo Con Cioè con la dignità Diciamo pulita Ecco Con Sì Con la Con ancora dignità Quindi secondo me Insomma Non avrei Cioè il suo ruolo Sarebbe stato negativo Nei confronti di Rick Perché Rick Se è così adesso È perché ha tenuto Al sicuro la sua famiglia E Lori Questo lo capiva in parte Quindi secondo me Insomma No sinceramente Non mi manca Lori E sono da una parte Felice Che sia morta Però perché comunque Insomma Era un personaggio Che secondo me Non Non era tanto importante Ecco certo Mi ha fatto molto Cioè mi ha fatto veramente Molto impressione La sua morte in The Walking Dead Però Credo ovviamente Che la sua parte In The Walking Dead Non fosse stata la migliore Se ci fosse ancora stata E quindi non fosse morta In quella che è la terza stagione Perché l'abbiamo vista morire Nella terza stagione Quindi nulla Fatemi sapere voi nei commenti Comunque cosa ne pensate Di questa cosa Prossima e ultima domanda Ce la fa FiengoTV Che ci chiede Question and answer Fox Pensi che Dwight Possa fare il triplo gioco Nel senso Usare il gruppo di Rick Per sconfiggere Negan E prendere il suo posto Come capo dei salvatori Questa è una domanda Bella Nel senso Un po' contorta Però è bella Perché Perché questo Perché comunque Metti che Dwight Vuole prendere il comando Dei salvatori Perché magari Vuole prendere il comando Ai Diciamo del gruppo di Rick Quindi del centuary Cioè scusate Il gruppo di Rick Il gruppo di Negan Quindi il centuary Potrebbe essere probabile Che Dwight Possa unirsi Al gruppo di Rick Per sconfiggere Negan E poi tradirlo Una volta sconfitto Nel senso Tradire Rick E diventare il capo Dei salvatori Ma credo che sia Una cosa un po' così Nel senso Che comunque Credo che comunque Se Rick Diciamo Uccide Negan Uccide anche tutti gli altri Tutti i salvatori Nel senso Tutti quanti i salvatori Quindi A questo punto Se non ci sono più i salvatori Dwight Non ha uno scopo Quindi secondo me Questa cosa è probabile Però non tanto Nel senso che Dwight comunque Vuole realmente Unirsi a Rick Sono al cento per cento Sicuro di questo Secondo me Potrebbe addirittura Morire nel provarci Nel senso Di provare di uccidere Negan O cose del genere Ma non credo che Dovrà usare il gruppo di Rick Per sconfiggere E prendere il suo posto Cioè sarebbe una cosa Interessante Cioè a me piace Come è detta questa domanda Però non la vedo possibile In questo contesto Nel senso che Nel contesto Di questa stagione qua O in generale Di personaggio di Dwight Non credo sia una cosa possibile Perché Dwight Comunque non sopporta Nel senso Questo metodo di Negan Quindi secondo me Insomma Il fatto di essere in capo In capo come fa Negan Secondo me Lo danneggerebbe Quindi Dwight È un personaggio diverso Dagli altri salvatori Quindi è un personaggio a parte E sono sicuro al cento per cento Che non vuole assolutamente Appunto essere capo dei salvatori Quindi secondo me Si sta unendo a Rick Solamente per sconfiggere Negan E uccidere tutti i salvatori Questo sono al cento per cento sicuro Comunque fatemi sapere voi nei commenti Cosa avete pensato di tutte queste domande E ovviamente ragazzi Anche dello sneak peek Che ovviamente trovate Un punto come ripeto sempre In descrizione E che dire Ovviamente ragazzi Se volete farmi le vostre domande Le potete fare tranquillamente Qui giù nei commenti Fatemene tantissime E spero tranquillamente Che questo video vi sia piaciuto In tal caso vi ricordo Di lasciare un mi piace Mi raccomando ragazzi Lasciatelo Ed inoltre Iscrivetevi al canale Per non perdervi I prossimi contenuti Di The Walking Dead E passate inoltre Nella pagina Facebook Nel profilo Instagram Tutti i link li trovate In descrizione E noi ci sentiamo Ad un prossimo video Un saluto da Foxhane The Walking Dead News Spoiler e altro Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ma io ti ucciderò Ciao a tutti